La pallavolo per il grido d'allarme del numero 1 di Modena Volley Katia Pedrini che risponde alle parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi. Sentiamo. È un grido d'allarme quello che la numero 1 di Modena Volley Katia Pedrini lancia rispondendo a distanza alle parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi pubblicate sulla Gazzetta dello Sport. Al massimo dirigente del Consorzio delle Società dei Campionati Maschili di Vertice che ha tratteggiato un bilancio tutto sommato positivo del movimento a poche settimane dalla conclusione di una stagione interamente segnata dalla pandemia il presidente giallo-blu ribatte sottolineando più di una perplessità. Katia Pedrini parla senza mezzi termini di problemi finanziari molto seri e non solo di cassa corrente per la maggior parte dei club di Superlega. La drastica riduzione delle entrate per Modena Volley oltre il 50% si è unita a un aumento dei costi intorno al 10%, dettato soprattutto dalle nuove e non preventivate esigenze mediche, continua la Pedrini. Poi lo sguardo si sposta al futuro e alla mancanza di certezze. Non sappiamo se e quando verrà completata la campagna vaccinale. Non sappiamo se, completata la campagna vaccinale, gli impianti sportivi saranno riaperti. Nella benaugurata ipotesi che si verificassero le condizioni di quale capienza si potrà usufruire. In uno scenario pieno di incognite, Katia Pedrini chiede al presidente della Lega che venga anche rivalutata l'ipotesi di posticipare l'avvio della nuova stagione, che stando al planning attuale è fissato all'inizio di ottobre. Al contrario di Righi, conclude la numero uno giallo-blu, io penso che questo sistema non sia affatto in buona salute. Se non si correrà immediatamente ai ripari, si andrà a sbattere. Tanto domani la Leo Schuss torna al completo in vista del match in programma alle 17 contro Verona, valido per la quinta giornata del play-off per il quinto posto. Stancovice, Gollini, oltre a Gianni, Ciamarra e Tomasini, tutti farsi positivi nei tamponi dello scorso martedì e tenuti precauzionalmente a Modena in occasione della trasferta di Vibo. Tornano a disposizione e il giallo-blu serve una vittoria da tre per scavalcare la squadra di Stoicev in classifica e tornare in corsa per la Final Four.